Credo che quello di oggi sia un giorno che non può certo essere definito come il giorno del lieto fine, perché non c'è nessuna possibilità di essere felici o di festeggiare o di fare cerimonie di grande gioia quando comunque andiamo a chiudere una vicenda che ha segnato 33 morti. Dobbiamo dire grazie a chi ha lavorato in questi due anni per fare una cosa che sembrava impossibile. Un enorme, enorme, enorme grazie alla protezione civile, a Franco Gabrielli che ha fatto il regista di un'operazione molto complicata, che ha sopportato anche qualche cattiveria di troppo e nel ringraziare lui io vorrei ringraziare tutti i servitori dello Stato. Genova era l'unica scelta possibile perché la rottamazione e la distruzione di questa nave fosse in Italia. Oggi Piombino non poteva accogliere questa nave, ma noi a Piombino investiremo non soltanto attraverso la trazione di investimenti internazionali per il sito industriale, ma anche sulla, qui in questo caso la Pinotti svolge la funzione di ministro più che di Ligure, attraverso lo smantellamento di alcune navi militari. Lo che voglio dirvi è che mai come in questo momento l'Italia, nonostante tutto ciò che viene detto e scritto, è straordinariamente attrattiva rispetto agli investimenti stranieri. Questa conclusione non è una conclusione, è un nuovo inizio, è un inizio che si porta nel cuore una tragedia, un dolore, come tutte le tragedie che potevano evitarsi, ma contemporaneamente porta nel cuore il fatto che se l'errore di qualcuno crea un danno enorme è anche vero che una comunità di donne e uomini intelligenti, capaci, dotate di qualità è in grado di ripartire e rimettere in moto quantomeno la speranza e ora io vorrei davvero con questo significare il motivo per cui io sono qui, non c'è nessuna passerella, nessuno show, c'è la gratitudine verso chi ha fatto una cosa che tutti dicevano impossibile e siccome si è fatto una cosa che tutti dicevano impossibile, quando si fa è giusto che a nome degli italiani il Presidente del Consiglio venga a dire semplicemente grazie.